Per trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. Indennità di accompagnamento revocata. La disabile sulmonese vince la battaglia contro l'Inps. Il Tribunale le ha dato ragione. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Alla fine ha vinto Jessica, la disabile sulmonese di 25 anni che si era vista revocare dall'Inps l'indenità di accompagnamento. È stato il giudice del Tribunale di Sulmona, Anna Maria De Santis, a rigettare il ricorso presentato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e a dare ragione a Jessica Mastrangio, l'idifesa in aura dall'Avvocato Katia Puglielli. Nella sentenza il giudice De Santis ha dichiarato invalida la 25enne sulmonese con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dalla la data della visita di verifica dell'Inps del 2 ottobre 2014. Il Tribunale di Sulmona ha inoltre condannato l'Inps al pagamento delle spese legali e del consulente tecnico d'ufficio. Nel 1998 Jessica è stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua. Nonostante il suo quadro clinico sia peggiorato rispetto al passato, la Commissione Inps di Sulmona decise di revocare la concessione dell'indenità di accompagnamento. La 25enne di Sulmona percepiva un'indenità pari a 500 euro unitamente alla pensione di invalidità che ammonta a 290 euro. All'indomani della decisione dell'Inps il contributo si era ridotto di 500 euro. Una battaglia vinta della Mastrangeli e dell'Avvocato Puglielli che a proposito del nuovo piano sanitario regionale aveva fatto notare come lo Stato e le istituzioni dovrebbero prestare più attenzione alla disabilità che un problema della collettività senza ledere quei diritti importantissimi da salvaguardare. Da questa mattina è bloccata la linea ferroviaria sul Monapescara a causa di un guasto alla linea elettrica aerea. A provocare il guasto il treno partito da Sulmona alle 6.45 che tra le stazioni di Manoppello e Chieti ha agganciato un cavo dell'alta tensione causando l'interruzione di energia elettrica sull'intera linea. Sono in corso lavori per ripristinare il funzionamento della linea che secondo le previsioni dei tecnici che stanno operando dovrebbe tornare in funzione nel pomeriggio. Trenitalia attivato da subito autobus sostitutivi per coprire la tratta. L'autobus per Roma non ferma più alla stazione di Sulmona. L'assessore comunale Alessandra Vella scrive alla società tua e presenta una proposta alternativa. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Utilizzare la fermata extraurbana all'interno del piazzale della stazione ferroviaria di Sulmona nella zona delimitata alla strisce gialle adiacente alla locomotiva storica già riservata alle fermate. Questa è la proposta avanzata dall'assessore comunale, le politiche dei trasporti, Alessandra Vella, la società tua a proposito della soppressione della fermata del bus diretto a Roma davanti alla chiesa della Madonna Pellegrina spostata nei pressi del centro commerciale Nuovo Borgo. La decisione della società ha fatto già scattare l'ira dei pendolari che ogni giorno viaggiano sulla Sulmona Roma. La stazione di Sulmona centrale rappresenta un importante nodo di interscambio tra il trasporto ferroviario regionale e i vettori Roma-Sulmona e tra questi gli altri vettori che servono in numerosi paesi dell'Interland sulmonese fa notare l'assessore Vella. Soprimendo la fermata della stazione centrale questo importante nodo di scambio verrebbe meno. Inoltre il nuovo itinerario interesserebbe un'arteria Viale della Repubblica molto trafficata nelle ore di arrivo dell'autobus che parte alle 17.50 da Roma-Tiburtina con un conseguente allungamento nei tempi di percorrenza per le successive fermate, aggiunge l'assessore facendo notare come un altro problema non meno importante riguarda le difficoltà che i viaggiatori incontrerebbero nel dover parcheggiare le proprie autovetture a svantaggio dell'agevole parcheggio pubblico adiacente alla stazione centrale di Sulmona. La proposta del Comune è al baglio della società tua. Adesso il Consiglio Comunale di Sulmona in riunione questa mattina. Fabio Ranalli ha ritirato le dimissioni da vicepresidente ed è stato rieletto alla vicepresidenza della Sise Civica ma la sua rielezione non è stata all'unanimità. Sentiamo. Fabio Ranalli ritira le dimissioni da vicepresidente del Consiglio Comunale di Sulmona ma al momento della sua rielezione non ottiene la massima condivisione e quanto si è verificato nella Sise Civica di questa mattina che ha affrontato in apertura la questione Fabio Ranalli. Al fine di fare chiarezza su quanto avvenuto nella precedente seduta il Presidente del Consiglio Katia Di Marzio ha affermato. Ritengo che le dimissioni di Ranalli sono dovute a fraintendimenti ma lungi da me assumere un comportamento scorretto ed antidemocratico. Fabio Ranalli viene invitato dalla maggioranza a ritirare le dimissioni. Ad esprimere questa posizione per tutti sono stati Luigi Santilli e Fabio Pingue. Dai banchi dell'opposizione Elisabetta Bianchi nel rimarcare fiducia e stima personale nei confronti di Fabio Ranalli sollecita per il futuro l'intero Consiglio Comunale ad avere sempre un atteggiamento consono al dibattito. Prende la parola Ranalli che si dichiara disposto a metterci una pietra sopra a patto che si mantenga ogni qualvolta un clima corretto nel pieno rispetto dell'etica. Detto questo per ritirare le dimissioni e consentire la nuova votazione che, stando agli interventi, avrebbe dovuto far registrare la totale condivisione. Ma non è stato così. Sorprende infatti l'esito del voto perché, oltre a Fabio Ranalli che ha ottenuto 11 preferenze, c'è stato anche un voto per Elisabetta Bianchi più due schede bianche. Non ha partecipato invece Roberta Salvati che però ha poi detto di non trovarsi in aula per un fatto del tutto casuale e nulla di proposito. Se il Consiglio Comunale ha inteso esprimere negli interventi stima e fiducia verso il rieletto vicepresidente, qualcuno poi di maggioranza o minoranza votando la bianche e non Ranalli ha agito per conto proprio, in barba ad una posizione che sembrava unitaria. Torneremo sul Consiglio Comunale di Sulmona per occuparci degli altri punti inseriti all'ordine del giorno nell'edizione di questa sera del telegiornale delle ore 20. Adesso ci occupiamo della Villa Comunale e luce fu, possiamo dire benissimo così perché sono state ripristinate dopo cinque anni le lanterne della Villa Comunale di Sulmona. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Fiat Lux, così su Facebook il vice sindaco del Comune di Sulmona, Mariella Iommi, ha salutato il ripristino delle lanterne nel viale della Villa Comunale a Sulmona. Torna la luce dopo le innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini. Sono state riattivate sei lanterne lungo i percorsi interni del polmone verde del centro storico, più volte finito agli onori della cronaca per episodi di degrado e incuria. Le lanterne in questione erano spendere a cinque anni e tecnici del Comune di Sulmona dopo il pressing del vice sindaco hanno provveduto a restaurare e ricollegare l'impianto sostituendo le lanterne. Ringrazio gli uffici del Comune l'ingegnere Petrilli, afferma il vice sindaco Iommi. Questo intervento sembra di poco conto ma in realtà vuole valorizzare la sicurezza della Villa Comunale risolvendo il problema della carenza di illuminazione. Un tempo il promone verde del centro storico era il biletto da visita della città nonché il punto d'ingresso per cittadini e turisti. Negli ultimi mesi più volte l'inciviltà vi ha trovato casa nonostante gli appelli del Comune e degli organi preposti. L'obiettivo è di invertire la rotta con interventi di manutenzione sembra che l'inciviltà cessi una volta per sempre. Il presidente del gruppo dei senatori di Forza Italia Paolo Romani e il giornalista e consigliere Rai Arturo Diaconale saranno oggi a Sulmona nella sala della comunità montana Pellinia alle 17.30 per spiegare le ragioni del no di Forza Italia alla riforma costituzionale che sarà votata nell'imminente consultazione referendaria. Ad aprire la manifestazione sarà la senatrice Paola Pelino vicepresidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Sempre oggi al Tribunale di Sulmona ci sarà un incontro sul referendum promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, dibattito sul referendum costituzionale del 4 dicembre. Gli interventi saranno di Carlo Di Marco, docente di diritto pubblico all'Università degli Studi di Teramo e di Fabrizio Politi, professore di diritto costituzionale all'Università degli Studi dell'Aquila. L'incontro sarà moderato da Gabriele Tedeschi, presidente dell'Ordine Forense di Sulmona. Il gruppo Giovani Abis di Pratola Pelinia sposa la causa di Allais Onlus. Domenica i volontari scendono in piazza per fermare l'infezione HIV. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Il gruppo Giovani Abis di Pratola Pelinia, domenica prossima 4 dicembre, scendere in piazza per sostenere il progetto Un Bonsai per Annala IDS. La campagna di sensibilizzazione è volta a fermare la diffusione dell'infezione da HIV. Informazione, prevenzione, ricerca e tutela dei diritti. Questi gli obiettivi dell'iniziativa solidale che farà il giro di tutte le piazze italiane e approderà anche nel centro Pelinio grazie all'intuizione e alla sensibilità dei giovani dell'Avis. Abbiamo risposto con entusiasmo all'invito dell'Annala IDS e Onlus per aiutarli in quella che la loro battaglia fanno sapere dal gruppo Giovani Abis. È stato scelto per tale iniziativa un piccolo albero verde, una pianta che per sopravvivere ha bisogno di cure quotidiane e continue. Proprio come quotidiane e continue sono le cure necessarie alle persone con l'HIV e come quotidiana e continua deve essere l'informazione e la prevenzione contro l'infezione, sottolineano i giovani dell'Associazione Pratolana. Dalle ore 9 di domenica 4 dicembre in piazza Madonna della Libera e gruppo Giovani Abis, al grido di un piccolo gesto e regalo più grande, slogan ripreso da un recente convegno, scendere in piazza con i bonsai dell'Annala IDS per partecipare attivamente alla lotta contro quella che è una delle patologie croniche più gravi del paese. Salvare una vita mai, come in questo caso, è semplice e doveroso. Adesso ci sono degli aggiornamenti di cronaca. Un'istanza presentata dagli avvocati dell'ex presidente della regione Gianni Chiodi fa slittare al 6 giugno prossimo la discussione e la sentenza del procedimento che vede imputati lo stesso Chiodi, l'ex subcommissario Giovanna Baraldi, l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni e due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali, accusati a vario titolo di falso, violenza privata e abuso d'ufficio. I legali dell'ex governatore, i terramani Pietro Referze ed Enrico Mazzarelli, si sono avvalsi del disegno di legge che sospende le attività processuali per le persone residenti nell'area del cratere individuata dal governo in seguito alle ultime scosse di terremoto. Il giudice per le udienze preliminari Gianluca Sarandrea ha fissato la prossima udienza nella prima data utile successiva alla scadenza dei termini della sospensione prevista per il 31 maggio. Lo slittamento non incide sui tempi della prescrizione. Un allevamento abusivo di cinghiali selvatici senza alcun tipo di controllo, certificazione soprattutto in materia di patologie trasmissibili all'uomo in caso di consumo delle carni con gravissimi rischi dal punto di vista sanitario. E quanto hanno scoperto i carabinieri del Nasse di Pescara in un comune della Valle del Salto, nell'Aquilano, è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività con il contestuale sequestro di tutti gli animali presenti, cinghiali e suini, sia vivi che carcasse. Adesso lasciamo questi aggiornamenti di cronaca e cambiamo decisamente argomento e possiamo vedere il concerto di ieri sera a Sulmona di Fiorella Mannoia, teatro comunale in Visibilio per Fiorella Mannoia, serata da incorniciare con due ore e mezza di applausi. La cantante romana ama Sulmona ma non le telecamere. Spieghiamo il perché nel servizio di Andrea D'Aurelio. Cette giornate amare, lascia stare, intanto ci potrai trovare. E qui, con le nostre notti piangere, non saremo stanche, neanche quando ti diremo un po' l'amano. E sì. Pubblico delle grandi occasioni al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona per Fiorella Mannoia, la cantante romana che ieri è inaugurato alla Grande, il suo nuovo tour Il Combattente che da Sulmona farà il Giro dell'Italia. Due ore e mezza di musica e grande spettacolo dove Mannoia ha risolverato tutti i suoi cavalli di battaglia, da come si cambia a quello che le donne non dicono. Molto felice, anche perché la seguo da 30 anni, dai tempi di Caffè Nero Bollente. È bellissimo, molto soddisfacente. Poi Fiorella è una grande donna, in tutti i sensi. No, è bravissima, è un'artista completa, elegante, di classe. È stupendo, bellissimo e entusiasmante. Assolutamente no, un'eroina del parco. Questo è un appello all'amministrazione per far rivivere il nostro teatro perché merita tutto. Il teatro è andato in visibilio sulle note di Il Cielo d'Irlanda quando la cantante romana è scesa dal palco e raggiunto la platea in una atmosfera di grande e significativa complicità con il pubblico. Applauditissima dai sulmonesi al termine del concerto ha concesso foto e autografi e fan, ma ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione, più volte ha rifiutato l'invito dei giornalisti. Al settimo cielo l'organizzatore del concerto è Giuseppe Lepore che tira un respiro di sollievo. La soddisfazione arriva anche dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Cassini, che non ha perso occasione per dare via al rilancio del teatro comunale. Abbiamo intenzione di riportare in auge ogni luogo della cultura. In questo teatro riprenderà la stagione in prosa che presenterò a breve annuncio il primo cittadino presente assieme al vice sindaco Mariella Iommi, al presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio, al presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis, all'assessore regionale Andrea Gerosolimo, insieme alla consorte Marianna Scoccia, sindaco di Prezza. Sarà una stagione piena, ci sarà anche il teatro per i ragazzi al cinema pacifico e dei laboratori teatrali per i più piccoli al piccolo teatro, quindi un'offerta completa, culturale e di tipo teatrale. Bellissimo, un concerto stupendo, una voce spettacolare, una grande fiorella, grande artista e ha infiammato il teatro Caniglia. Mannoia lascia Sulmona dopo una settimana di permanenza che ha detta di Domenico Santa Croce, titolare dello Telovideus e presidente dell'associazione Abbergatori, è stata più che positiva. Sulmona gli è piaciuto tantissimo anche perché già c'era stata lei a Sulmona e chiaramente lei ama molto questa città in quanto soprattutto l'ospitalità che gli diamo e diciamo l'accoglienza che lei ha già accennato prima. Adesso andiamo all'Aquila per il premio Fondazione Carispac per la solidarietà che si è svolto lo scorso lunedì in servizio. La terza edizione del premio Fondazione Carispac per la solidarietà è stata dedicata alla memoria di Francesco Damanzo, il giovane ingegnere pescarese volontario come clown in corsia scomparso all'età di 39 anni lo scorso mese di settembre. Nella cerimonia svoltasi al teatro dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila sono intervenuti familiari ed amici che hanno ricevuto il premio alla memoria dall'attrice Serena Utieri. Ascoltiamo la sorella di Francesco Damanzo. Abbiamo sempre giocato insieme, abbiamo fatto campi scuola insieme e poi lui è venuto all'università ad Ancona, io sono rimasto a Spescara anche perché comunque ho una disabilità, sono sempre stata anche con tutti gli amici suoi e nessuno mi ha fatto sentire diversa e questa è stata una cosa molto bella. Un ricordo commosso di Francesco Damanzo, di lui hanno detto gli amici mancheranno il sorriso e l'amore per i bambini. Abbiamo condiviso tante cose, sia quelle belle che quelle brutte perché quando si fa la cronoterapia tutti pensano perché ridi e porti il sorriso, la cronoterapia è una cosa molto profonda, si rifà dei concetti anche di fisiologia molto importanti. Il premio è stato assegnato anche alle associazioni Brucaliffo, Fantacadabra e Il Baule dei Sogni che da sempre lavorano sul territorio con progetti dedicati ad alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti dei reparti pediatrici. Il premio di oggi è un grande riconoscimento per noi perché il nostro lavoro è un lavoro che è molto lontano dai riflettori perché si opera in ospedale e nei reparti di pediatria ma non solo e dove siamo un po' lontani dai clamori. Noi interveniamo nell'ospedale di Sulmona, collaboriamo con altre associazioni del territorio come per esempio il Brucaliffo dell'Aquila, però il nostro intervento e il nostro lavoro non è un lavoro che spesso viene ripreso dalle telecamere perché il lavoro che facciamo è abbastanza delicato per cui quando poi c'è questa opportunità di far vedere quello che facciamo siamo sempre molto contenti. Dopo il premio, il primo anno dato alla figliola del carabinieri ferito davanti a Palazzo Chigi che si è dedicata al padre in maniera totale, dopo il premio dato l'anno passato all'APTDH che è l'associazione di assistenza ai portatori di handicap, quest'anno abbiamo pensato la Commissione ha scelto di premiare l'associazione Il Baule dei Sogni insieme al Brucaliffo soprattutto per la figura di Francesco Damanzo, questo giovane ingegnere che purtroppo è morto da poco che si è dedicato all'animazione teatrale negli ospedali dedicandosi ai bambini. Io credo che questo sia un nobile impegno che ha profuso e quindi noi quest'anno abbiamo pensato giusto dedicare a lui e alla sua associazione il premio per la solidarietà. Prosegue con successo a Sulmona la rassegna, i concerti del giovedì della Camerata Musicale Sulmonese che si svolgono ogni giovedì nella Sala Azzurra del Palazzo di Vico dei Sardi sede dell'Associazione Camerata Musicale Sulmonese. Domani si esibirà il duo Yolanda Stanelit, soprano e Guido Galterio, pianoforte con la voce recitante di Pietro Begattini che presenteranno il programma di A.D. e Lontananze viaggio sentimentale nella musica vocale russa tra l'800 e il 900. Il costo del biglietto è di 5 euro e i biglietti si possono acquistare prima del concerto. E adesso per lo sport, ci occupiamo di rugby e parliamo di un corso di arbitro di rugby che si è svolto a Sulmona nello scorso fine settimana. Il servizio è di Gaetano Trigilio. Negli impianti sportivi dell'incoronata a Sulmona, corso per arbitri dell'entusiasmante disciplina sportiva del rugby. Conoscere le regole di base e di valori del rugby è fondamentale per chi si avvicina al non facile compito di dirigere ed amministrare una partita. L'abbiamo assistita ad una lezione tenuta da un istruttore federale, Ermanno Palmieri. Sono stati toccati gli argomenti di preparazione e di introduzione a questa arte, questo arte-mestiere che devo dire non è facilissimo. Presenti oltre una mentina di giovanissimi, desiderosi non solo di avvicinarsi a questo sport ma anche di capire le regole fondamentali. Spesso gli allievi interloquivano con l'istruttore per capire o meglio precisare alcuni aspetti del rugby giocato in campo. Seguendo questo corso, molti di questi ragazzi sono giocatori, attualmente giocatori qui, giova anche al loro aspetto tecnico. Oggi abbiamo deciso che il corso d'arbitri venga seguito anche da alcuni giocatori, questo per far capire ai ragazzi che l'arbitro è in realtà nel gioco del rugby un compagno di giochi. È quello che regola l'andamento della partita, non è quello che giudica il tuo modo di giocare. Ha un ruolo estremamente complicato perché la palla spesso è nella zuffa e invece lui riesce a trovare la qualità del gioco. Quindi veramente è un compagno da tenersi a fianco. Nel rugby non esiste l'avversione che spesso si riscontra contro l'arbitro di calcio. Nella Locandina si legge una provocatoria e chiarificatrice frase, arbitro, ti aspettiamo fuori per una birra. Il movimento cresce, gli arbitri in Abruzzo hanno un numero abbastanza considerevole. Bisogna crescere un attimino sulla qualità degli arbitri, però fin quando sono ragazzi, mentre prima andavano gli arbitri diventavano tutti ex giocatori a fine carriera. Adesso invece sono proprio i ragazzi che si avvicinano in questo modo diverso di fare sport. Bene, non ci sono altri aggiornamenti. Prima di concludere possiamo vedere i film in programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio. Animali fantastici e dove trovarli alle 18.20 e 21.10. Come diventare grandi nonostante i genitori alle 18.10 e 21.10? Io che amo solo te alle 18 e alle 21.10. È tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con dell'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Tempo in ulteriore miglioramento ma con temperature molto basse sulla nostra regione dove ora ci sono condizioni di cielo poco nuvoloso con residui e nuvolamenti a ridosso dei rilievi. Ulteriore miglioramento con progressiva attenuazione dei venti di bora nelle prossime ore. Previste gelate diffuse anche in pianura, specie tra questa sera e questa notte e domani mattina. A tal proposito si raccomanda prudenza per la presenza di tratti stradali ghiacciati. Temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi, venti moderati dai quadranti settentrionali con residui rinforzi, mare molto mosso agitato con moto indosso in lenta attenuazione. Grazie a tutti.